L'hai rubata te la persona di Latina Lombardi? Non so di che parli. Dai, dai. Ho trovato la fotocopia in camera tua, chi l'ha preso a te o Manuel? Ma che ti importa se cerchiamo di prendere un bel voto in latino? Non abbiamo mica rubato una verifica di filosofia. Ma in questo momento non sto parlando come professore, ma come padre. Il padre mi sembra che ti piace fallo che i miei amici. In che senso? Non capisco. Non pensavo te ne fregasse qualcosa di paperella. Invece per Manuel l'hai tirata fuori. Ma non l'ho fatto per Manuel, l'ho fatto semplicemente perché volevo vedere se si poteva riparare. E' tutto qua. Paperella. Ti l'hai dato tu quel nome? Paperella. Ma te le ricordi da Gita al Mare con Paperella? La prima volta che ci sei salito eri terrorizzato, ti eri abbarbicato dietro, sembravi un koala. E poi al ritorno invece sei tranquillizzato. Libertà! Vuoi andare forte? Sui rettilini e strillavamo. Libertà! Libertà! Ma se questo mi ricordo. E ti ricordi cosa si rilevamo? Libertà! 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 Cogli anni il nostro rapporto è diventato soltanto un andare, venire. Tu queste cose non le puoi sapere ma succede anche tra le persone che si vogliono bene. Se tu li avessi traditi nemmeno forse sarebbe stato meno triste. Grazie a tutti.